Tre anni e Bassano avrà il suo nuovo commissariato di polizia. La notizia è arrivata ufficialmente oggi da Roma con una nota del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, con la quale il Governo rende noto che i fondi per la progettazione sono stati assicurati e i lavori calendarizzati nei prossimi tre anni. A quanto ammontino i fondi stanziati non è ancora dato sapere. Quel che è certo è che il nuovo commissariato di polizia sarà costruito all'interno dell'ex caserma Montegrappa, in un'area già da tempo individuata come ideale per l'operazione. Da anni, infatti, l'ex struttura militare veniva indicata come la sede possibile della polizia cittadina, ma l'iter burocratico per la sua realizzazione era bloccato dal 2017. Solo un mese fa il sindaco Elena Pavan aveva portato all'attenzione del ministro Matteo Salvini il problema del commissariato, che attualmente trova sede in un immobile privato che versa in cattive condizioni manutentive e soggetto a sfratto. Poche settimane e dal ministero è arrivata la risposta positiva, che sta raccogliendo plausi da ogni parte. Se il sindaco Pavan parla di un'autentica svolta che premia gli sforzi della politica che non si ferma davanti agli ostacoli, il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha definito l'operazione una notizia bellissima per la città e per la polizia. Quello che viene dal mit, è il commento del governatore Zaia, è un segno di grande considerazione verso i cittadini e il loro bisogno di sicurezza. Ennesima dimostrazione di concretezza e pragmatismo della Lega al governo, sono invece le parole della senatrice del Carroccio, Mara Bizzotto.